Musica Chiusura e ne accalo a Piazza Fari L'indice Fuzzimi fa segnare un meno 1,81% a 18.064 punti Mentre l'Italia All Share cede l'1,71% a quota 19.848 punti Tra i titoli del listino milanese i maggiori rialzi sono quelli di Amplifon, Ricordati, Juventus e Salvatore Ferragamo Mentre i cali più consistenti riguardano Fiat, Chrysler, Automobiles, Telecom Italia, Brembo e Azimut Holding Sindial, società ambientale di Eni, ha avviato nel sito della raffineria di Gela in Sicilia Il primo impianto pilota per il recupero e la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani In un bio-olio che servirà a produrre carburanti di nuova generazione La messa in esercizio dell'impianto rappresenta il primo traguardo di un percorso nato dalla ricerca di Eni e avviato con la definizione della tecnologia proprietaria Fastel2Fell messa a punto nel centro ricerca Eni per le energie rinnovabili e l'ambiente a Novara Novembre inflessione per 4 miliardi I complici le condizioni di incertezza sui mercati ma il saldo della raccolta netta da inizio anno si mantiene positivo per circa 9 miliardi Lo rende noto Asso gestioni Segnano dei flussi le gestioni collettive, le gestioni di portafoglio Tra i fondi aperti le sottoscrizioni si sono indirizzate verso i monetari e i bilanciati Il settore dei media nel quinquennio 2013-2017 ha registrato risultati in chiaro-oscuro con il comparto televisivo che ha visto i ricavi delle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di euro mentre quelli del settore editori ha contrarsi complessivamente di oltre 900 milioni E' quanto viene fotografato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel focus bilanci 2013-2017 nel quale viene anche illustrato l'andamento del settore degli operatori di rete e gestori delle infrastrutture di radiodiffusione cresciuto nel periodo considerato ad un tasso medio anno del 5,4% Dei 1459 editori attivi nel 2017 quasi l'85% pubblica non più di 50 titoli all'anno Oltre la metà sono piccoli editori con un massimo di 10 opere in un anno ed il 31% sono medi editori che producono da 11-50 opere in un anno Lo rende noto l'Istat I grandi editori con oltre 50 opere all'anno rappresentano il 15,1% degli operatori attivi nel settore pubblicano più dell'80% dei titoli sul mercato e circa il 90% delle copie stampate Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!